Il taglio dell'Irapin Trentino, ok sui principi del Jobs Act Renziano, purché si traducano in norme. Federa Meccanica, l'ala di Confindustria che raggruppa le aziende metalmeccaniche, chiede la massima flessibilità possibile al legislatore sulla forza lavoro e all'ente pubblico chiede cantieri e lavori pubblici per rilanciare un settore che in Italia con la crisi si è ridotto di un terzo. Ma è possibile una sorta di new deal da parte del pubblico in tempi di calo di risorse, insomma con cantieri e lavori pubblici? È necessario, è uno dei punti che abbiamo proprio portato nei punti cruciali della crescita della ripresa economica. È necessario che la provincia metta in campo immediatamente lavori pubblici, nuove strade, nuove ristrutturazioni, nuovi ampliamenti, nuovi edifici proprio per migliorare quello che è la domanda del lavoro pubblico, quindi mettere in moto la catena indispensabile. La storia ci insegna che nei momenti di crisi i governi hanno sempre investito proprio per migliorare, per dare occupazione, per migliorare quello che è il reddito delle imprese, quindi avere a loro a sua volta una ricaduta sul territorio. In Trentino il futuro richiede sempre più interazione tra meccanica, meccatronica e elettronica e tanto orientamento all'export. I segnali sono già positivi. Attualmente le aziende metalmeccaniche in Trentino sono 223, oltre un terzo del totale del manifatturiero. L'export è al 54%, il mercato principale è la Germania. Due terzi sono aziende con meno di 50 dipendenti. Le 19 aziende più grosse danno lavoro a oltre 4100 persone.